Ciao a tutti, sono Filippo di Italia che cambia. Per il 2020, che è stato un anno molto difficile e strano per tutti, io e la mia famiglia, come credo tutti voi, non abbiamo viaggiato quest'anno, non siamo praticamente mai andati al ristorante, quindi alla fine dell'anno ho fatto un attimo un calcolo e ho visto quanti soldi ho risparmiato e vorrei mettere questi soldi a disposizione di Italia che cambia. Italia che cambia ha fatto un lavoro eccellente quest'anno, più importante che mai, e soprattutto hanno quasi raggiunto gli obiettivi che si erano dati all'inizio dell'anno, anche nonostante il Covid. Manca solo un'ultima piccola parte, hanno raggiunto l'obiettivo per il 90%, dunque io vorrei mettere un contributo di 10.000 euro tramite il match funding con voi. Cosa vuol dire? Che per tutte le feste natalizie fino alla Befana pareggerò qualsiasi donazione fate, anche se non siete andati al ristorante e avete risparmiato 20 euro una volta. Fate una donazione di 20 euro e io la pareggerò, così se insieme riusciamo a trarre su 20.000 euro, riusciamo a coprire questo buco che è stato causato dal Covid e coprire tutti i costi dell'associazione e partire nel 2021 alla grande. Grazie mille e buone feste. Ciao!